Emanata dal sindaco di Ragusa Peppe Cassì l'ordinanza che regolamenta da oggi l'estate 2020, multe salate per chi viene sorpreso senza mascherina o non rispetterà il distanziamento e spiaggia. Chiaramente in merito al nuovo impianto di biometano che dovrebbe sorgere nella zona industriale di Ragusa e quanto chiedono cittadini e consiglieri comunali intanto l'amministrazione rassicura. I buoni pasto rimasti nei cassetti di tante famiglie modicane potranno essere riutilizzati il prossimo anno scolastico per carpentieri un nuovo aiuto concreto a favore di tanti cittadini. Al via da domani le sante messe in occasione della festa della Madonna delle Grazie a Modica, celebrazioni che sarà possibile seguire anche in diretta su Canale 74. Salve a tutti e bentrovati con il Tg di Canale 74. Apriamo il telegiornale con la recente ordinanza emessa dal sindaco di Ragusa Peppe Cassì che regolamenta da oggi l'estate 2020. In totale sono oltre 30 pagine che punto su punto indicano ai cittadini e titolari di attività commerciali le principali regole da seguire alla luce dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Multe salate per chi viene sorpreso senza mascherina o non rispetterà il distanziamento in spiaggia. Sentite. Punto per punto le regole che i ragusani saranno chiamati a rispettare per l'estate 2020. Emanata dal sindaco di Ragusa Peppe Cassì infatti dopo la riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza svolto in prefettura una nuova ordinanza che andrà a regolamentare un'estate certamente diversa dove tutti sono chiamati a osservare precise norme di comportamento sia in spiaggia sia durante la movida serale. Prima di tutto la mascherina fondamentale in ogni luogo aperto al pubblico e assembramenti sempre da evitare sia in spiaggia sia nei locali sia all'interno del porto turistico. In questo caso sarà compito dei titolari garantire il distanziamento sociale. Distanziamento anche nei ristoranti a meno che non si è conviventi e dovranno essere proprio quest'ultimi a dichiararlo al momento dell'ingresso. Amici e conoscenti invece sempre a debita distanza di almeno un metro. Divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro o in lattine. Limitazioni anche in materia di orari di vendita anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche che saranno vietate dalle 24 alle 7 del mattino seguente. Per quanto riguarda le emissioni sonore nei locali ci si dovrà attenere a orari ben precisi che variano da periodo a periodo. Da oggi al 15 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 24, sabato invece fino a 1.30 di notte. Dal 16 giugno al 15 settembre invece restano invariati tutti gli orari ad eccezione del sabato dove si potrà emettere musica fino alle 3 del mattino. Disciplinate anche le spiagge libere dove la distanza minima tra gli oggetti, teli, lettini, sdraie e altre attrezzature e i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a un metro e mezzo. Inoltre la distanza tra un ombrellone e l'altro non deve essere inferiore ai 3 metri. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite misure ed aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni. La distanza interpersonale non deve essere inferiore a un metro, vietata ogni forma di assembramento così come vietato l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. Frequente lavaggio dei teli ad almeno 60 gradi e spiagge vietate alle persone con temperatura corporea superiore a 37 gradi e mezzo. Non è ammessa la presenza di persone dalle 21 alle 6 ad eccezione della pesca sportiva svolta in forma prettamente individuale. Per chi sarà sorpreso senza mascherina sono previste multe che variano dai 400 ai 3 mila euro. Per chi non rispetterà invece le regole da seguire sulle spiagge pubbliche si prevedono sanzioni da 25 a 500 euro. Le novità non sono solo per quanto riguarda la stagione estiva ma anche per quanto riguarda la scuola. Da settembre si dovrebbe si tornerà a scuola e dal comitato tecnico scientifico arrivano le prime indicazioni. Tra i punti principali c'è la distanza interpersonale di un metro, la mascherina per tutti dopo i sei anni di età e lo scaglionamento dell'orario d'ingresso e delle entrate. Ma si avvicinano anche gli esami di maturità con l'esame in presenza che preoccupa non poco i docenti e i commissari. Guardate. Tornare a scuola in presenza ma anche soprattutto in piena sicurezza è l'obiettivo di tutti e in particolare del ministro della pubblica istruzione Lucia Azzolina a lavoro con il governo per riportare tutti gli studenti in classe da settembre. E arrivano dal comitato tecnico scientifico le prime indicazioni. Tra i punti principali la distanza interpersonale di un metro, la mascherina per tutti dopo i sei anni di età, lo scaglionamento dell'orario d'ingresso e delle entrate, nessuna prova della febbre per entrare a scuola ma se si hanno 37 gradi e mezzo di temperatura si deve restare a casa. Le indicazioni con le misure sono state comunicate al governo e al ministero dell'istruzione. Unite alle norme per concorsi, supplenti, precari ed edilizia, barate in prima lettura ieri dal senato con il decreto legge scuola. Le indicazioni del CTS serviranno al rientro insieme a quanto dirà il comitato di esperti del ministero dell'istruzione. Il distanziamento fisico, le misure di igiene e prevenzione sono i cardini del documento. Previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro, considerando anche lo spazio di movimento. Questa distanza andrà garantita nelle aule con una conseguente riorganizzazione della disposizione interna, ad esempio dei banchi ma anche dei laboratori, in aula a magna, nei teatri scolastici. Si passa a due metri per le attività svolte in palestra. Il consumo del pasto a scuola verrà sempre garantendo il distanziamento attraverso la gestione degli spazi, dei tempi di fruizione e anche attraverso l'eventuale fornitura del pasto in lunchbox per il consumo in classe. Andranno limitati gli assembramenti nelle aree comuni, saranno valorizzati gli spazi esterni per lo svolgimento della ricreazione delle attività motorie o per programmate attività didattiche. Saranno privilegiati tutti i possibili accorgimenti organizzativi per differenziare l'ingresso e l'uscita degli studenti attraverso lo scaglionamento orario o rendendo disponibili tutte le vie di accesso dell'edificio scolastico. All'ingresso della scuola non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma chiunque avrà una sintomatologia respiratoria o temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo dovrà restare a casa. Ciascuna realtà scolastica procederà a una mappatura e riorganizzazione dei propri spazi in rapporto al numero di alunni e alla consistenza del personale. Sarà necessario per gli alunni sopra i sei anni indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza nei locali scolastici. Fatte salve le dovute eccezioni, ad esempio quando si fa attività fisica durante il pasto, le interrogazioni come già accadrà per gli esami di Stato. Maturità che però ha già scatenato il caos tra i docenti che temono l'esame in presenza, soprattutto per gli spazi che non bastano per garantire la sicurezza. Le aule normali infatti non sono quasi mai sufficienti a tenere la distanza di due metri l'uno dall'altro, membri interni, presidente e candidato. Sempre che la commissione d'esame sia al completo, perché c'è anche la possibilità che una parte dei commissari sia in aula e un'altra in videoconferenza. Se i medici di scuola o quelli dell'INAIL certificheranno la non idoneità del docente all'esame in presenza, in quanto soggetto fragile, con più di 55 anni o affetto da qualche patologia o disabilità che lo mette più a rischio contagio da Covid-19. E sono tanti docenti siciliani che insegnano al Nord tornati a casa in questi mesi di lockdown, che adesso dovranno ritornare nei luoghi di lavoro, correndo il rischio di contrarre il coronavirus durante il viaggio. La cronaca, tragedia sfiorata a Rosolini, alla termine di una lite familiare. Carabinieri hanno deferito in stato di libertà per lesioni personali gravi una donna rosolinese di 44 anni, incensurata, che al culmine di una discussione avvenuta nell'ambito familiare ha aggredito il marito, sferrandogli un fendente all'addome. La vicenda è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì, quando i militari sono intervenuti nell'abitazione dei due coniugi, unitamente a un'ambulanza del 118. L'uomo presentava una vistosa ferita e per questo motivo è stato subito soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Avola, dove è stato ricoverato. La moglie invece ha dichiarato che quanto avvenuto è stato l'epilogo di un rapporto di tensione che tra i due coniugi esisteva già da molto tempo. E ora torniamo sull'impianto di biometano che dovrebbe sorgere nella zona industriale di Ragusa. Argomento che preoccupa non poco anche alla luce di quanto già registrato qualche mese fa in contrada Zimardo Bellamagna tra Modica e Pozzallo. Il caso diventa anche politico, il rappresentante cittadino della Lega, l'ex vice sindaco Massimo Iannucci, chiede chiarimenti all'amministrazione. L'argomento biometano torna a preoccupare i ragusani. Questa volta non i pozzalesi o i modicani, ma proprio i cittadini di Ragusa che fino a qualche giorno fa non la sapevano riguardo un nuovo impianto che dovrebbe sorgere all'interno della zona industriale quarta fase. Notizia presa con le dovute precauzioni, proprio perché nessuno ha certamente dimenticato quanto accaduto con l'altro impianto, quello tanto discusso, che dovrebbe sorgere in contrada Zimardo Bellamagna tra Modica e Pozzallo, ma nel territorio di quest'ultimo comune. Una telenovela fatta di incontri in sombritendenza, consigli comunali aperti, scontri tra sindaci e sit-in in piazza. Adesso il nuovo impianto ragusano, tra l'altro già a buon punto riguardo le necessarie autorizzazioni regionali, sembra preoccupare tanto quanto il primo, anche perché l'azienda richiedente, Gulfi Energia SRL, aveva già presentato domanda nel 2015, ma nessuno era stato informato. Per questo motivo, proprio nelle ultime ore, si è registrato l'intervento del rappresentante della Lega Cittadina, Massimo Iannucci, che invita il sindaco a riferire alla città dopo aver naturalmente acquisito tutte le informazioni necessarie circa il fatto che non esisteranno problemi di alcun genere sul piano ambientale rispetto alla creazione dell'impianto in questione. Ci rendiamo conto, sottolinea Iannucci insieme alla consigliera comunale Maria Malfa, che in questo caso, a differenza di quello di Pozzallo, l'impianto sorgerà in un agglomerato industriale propriamente detto e che questa creazione tecnologica dovrebbe essere differente, almeno per quanto concerne la tipologia di lavorazione, rispetto alla struttura prevista a Zimardo-Belamagna. Al contempo, bisognerà essere sicuri che, per quanto in qualche modo differente, la lavorazione non impatti sul territorio. Nessuna volontà di censurare l'iniziativa privata, conclude Iannucci, ma occorre riferire in consiglio comunale e alla città, così da rassicurare i ragusani. Proprio il sindaco Cassì ha comunque recentemente garantito che tutti i controlli saranno fatti e che ancora mancano diverse autorizzazioni prima di dare il via all'inizio dei lavori. Secondo Cassì, non sarebbe proprio il caso di fare allarmismo perché l'impianto, oltre a ricadere in una zona industriale, sembra compatibile con le norme a tutela ambientale. E a Modica, invece, arrivano notizie confortanti in merito ai buoni pasto della mensa scolastica che sono rimasti inutilizzati. Un argomento più volte affrontato dal consigliere comunale Momo Carpentieri. L'amministrazione, infatti, ha deciso che i buoni pasto potranno essere utilizzati per il prossimo anno scolastico. Per quanto invece concerne i ticket del trasporto alunni che frequentano le medie inferiori e superiori, sarà invece scomputato il primo mese dal prossimo anno scolastico. Ma vediamo i dettagli nel servizio. L'amministrazione di Modica, finalmente, dopo tanti solleciti, pensa alle famiglie che hanno dovuto riporre nel cassetto i buoni pasto scolastici rimasti inutilizzati per via della chiusura anticipata delle scuole. Genitori che da tempo si chiedevano che farne e se potranno mai recuperare in qualche modo quanto speso per garantire ai propri figli il servizio mensa a scuola. Argomento preso a cuore più volte dal consigliere comunale della Lega, Momo Carpentieri, che in diverse occasioni ha avanzato al sindaco di Modica, Ignazio Abate, appelli affinché ci si muovesse verso il recupero di tali anticipazioni economiche. L'ultimo, proprio ieri, quando Carpentieri è tornato a incalzare perché ancora una volta nulla, Modica in tal senso, era stato fatto, contrariamente a quanto si registra già da settimane in altri comuni. Appelli che sembrano aver centrato l'obiettivo, visto che sempre ieri fortunatamente è arrivata dal primo cittadino la notizia di interventi mirati per non far perdere alle famiglie quanto anticipato per i servizi scolastici. Si è infatti deciso di scomputare per il prossimo anno scolastico sia i buoni pasto che i ticket per il trasporto alunni. Il sindaco ha quindi comunicato che i buoni pasto potranno essere utilizzati per il prossimo anno scolastico. Per quanto concerne invece il ticket del trasporto alunni, frequentanti medie inferiori e superiori, sarà scomputato il primo mese del prossimo anno scolastico. Notizia che certamente rincuora le famiglie modicane, molte anche con più figli che chiedevano un recupero di tali spese. Soddisfazione è stata anche espressa dallo stesso consigliere Carpentieri che parla di una buona politica a favore dei cittadini. Del resto, così come dimostrato in altre occasioni, ha affermato Carpentieri, eravamo certi che il sindaco avesse prima o poi preso a cuore tali richieste che arrivavano dal basso, sempre legate al difficile momento economico che stanno attraversando moltissime famiglie modicane. Sapere di non aver gettato inutilmente soldi preziosi è motivo di sollievo per chi programma già il prossimo anno scolastico. Sono iniziati stamattina i lavori di pulizia e sfalcio della verde lungo l'ex strada provinciale che collega punta secca con punta braccetto. Il tratto interessato dei lavori riguarda l'oasi del cannitello incontrata a maglia longa. L'intervento principale realizzato con un mezzo meccanico prevede la rimozione dal ciglio stradale di piante, erbace e arbusti che rendevano pericoloso il tratto di strada interessato. E' un intervento programmato da tempo, afferma il sindaco Giovanni Barone. La ditta incaricata ha avviato i lavori in vista della stagione estiva in un'arteria stradale molto trafficata perché collega due borgate marinare molto popolate. E ci spostiamo di nuovo a Modica dove entrerà nel vivo da domani la festa della Madonna delle Grazie. Un appuntamento da sempre molto sentito e partecipato dai modicani che quest'anno però dovrà tener conto delle normative anti contagio. Per questo ci sono le prenotazioni per assistere alla Santa Messa e anche la sospensione della caratteristica processione all'alba. Visto anche il numero limitato quindi di fedeli che potrà assistere alle celebrazioni, Canale 74 seguirà in diretta diversi appuntamenti sia domani che domenica. Sentite. La festa della Madonna delle Grazie domani e domenica anche in diretta su Canale 74, tutto pronti infatti per uno tra gli appuntamenti religiosi più sentiti dai cittadini modicani soprattutto in questo periodo di emergenza. La stessa Madonna il cui quadro lo scorso 21 marzo fu portato sul sagrato della Basilica per benedire ancora una volta la città di Modica e liberarla dalla pandemia. Il tutto ricordando gli eventi prodigiosi del 1626 e del 1709 attribuiti alla tavola in Ardesia con le figie della Madonna quando miracolosamente furono fermati prima la peste e poi il tifo. Adesso dopo uno slittamento di una settimana sempre a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria domani 30 maggio e domenica 31 la Basilica Santuario della Madonna delle Grazie di Modica è pronta per riaccogliere i fedeli e celebrare le sante messe seppur con le dovute restrizioni. Oggi infatti ultimo giorno di prenotazioni per poterlo assistere alle celebrazioni eucaristiche al via da domani con quattro appuntamenti con i fedeli e tra questi due trasmessi integralmente in diretta su canale 74. Si inizierà alle 17 per proseguire alle 19 e poi alle 21 la messa in diretta anche su quest'emittente e alle 22 altra diretta in occasione della vigilia della festa della Madonna delle Grazie. Domenica invece come da tradizione si inizierà alle 5 con la Santa Messa dell'Aurora dal piazzare della Basilica anche se quest'anno mancherà il pellegrinaggio dei tanti devoti che a piedi scalzi raggiungono dalle proprie abitazioni la Basilica per assistere alla prima celebrazione. La giornata di domenica sarà comunque scandita da numerose celebrazioni eucaristiche. Si proseguirà infatti con le sante messe quasi ogni 90 minuti la mattina e poi il pomeriggio gli appuntamenti delle 17 e 30, delle 19 e 30 che sarà possibile seguire anche in diretta su queste emittente e infine alle 21. Tutti appuntamenti che saranno celebrati nel piazzale della Basilica osservando precise misure anticontagio. Tra queste quella dell'utilizzo di guanti e mascherina e come accennato il distanziamento sociale reso possibile anche dal numero già fissato di 300 persone in tutto. Per questo si è deciso di procedere con le prenotazioni online al fine di mantenere sempre sotto controllo il numero dei fedeli. Dietofine per un cucciolo di cane caduto accidentalmente in un pozzo. Come potete vedere dalle immagini la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria è intervenuta alle prime luci dell'alba per il recupero del cucciolo che era finito in un pozzo scavato a mano molto profondo in Contrada Serra San Bartolo. I vigili verificato che la profondità della cavità era di oltre 30 metri hanno chiesto alla sala operativa l'intervento del personale specializzato nelle tecniche speleo fluviali che si è quindi calato nel pozzo recuperando il cucciolo spaventato. Bene e con questa notizia è tutto il Tg termina qui grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di giornata.